Il governo musumeci ha approvato, su proposta dell'assessore al lavoro Antonio Scavone, il programma degli interventi per il potenziamento dei centri per l'impiego. Insieme alle nuove assunzioni, oltre 1.200 nel triennio 2019-2021 per una spesa complessiva di circa 75 milioni di euro, è stato redatto un piano per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei centri, destinando altri 60 milioni di euro. L'obiettivo, sottolinea il Presidente della Regione Nello Musumeci, è quello di dare vita ad una rete di servizi per l'impiego che siano efficaci e in grado di integrare le funzioni tradizionali del collocamento. Nuove prestazioni ai cittadini e alle imprese, sia sul versante dell'informazione di base, dell'orientamento e dell'assistenza personalizzata, sia per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La delibera della Giunta prevede, tra l'altro, l'istituzione di un servizio costante di vigilanza, sia per le città metropolitane che per i centri per l'impiego di piccole dimensioni, dove si sono manifestate maggiori criticità. Il riordino del sistema di arredo dei centri per l'impiego, anche in previsione delle nuove assunzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali dove in atto sono allocati i centri per l'impiego e la ricerca di nuovi locali. Per la riattivazione dell'osservatorio del mercato del lavoro sono stati destinati 500.000 euro. Un organismo essenziale, spiega l'assessore Scavone, che mettendo in rete tutti i soggetti e gli enti istituzionali, avrà lo scopo di monitorare i dati relativi all'andamento delle aziende, di valutare eventuali situazioni di crisi e precrisi delle stesse, analizzare le tendenze e le evoluzioni del mondo del lavoro, nonché delle professioni, e infine di approfondire gli aspetti della sicurezza dei luoghi di lavoro. Un milione verrà inoltre utilizzato per il rafforzamento delle competenze degli operatori, con particolare riguardo ad una maggiore efficienza nell'erogazione delle misure del reddito di cittadinanza, anche attraverso periodici interscambi con altre regioni, dei modelli organizzativi e delle diverse modalità di erogazione dei servizi.